Se sei interessato al mondo degli investimenti iscriviti al mio canale Ciao ragazzi, benvenuti a un nuovo video di oggi Oggi parliamo di azioni che sono andate davvero male e dove un sacco di gente ci ha perso i soldi Allora, la prima di cui vi voglio parlare è questa azione che si chiama Nicola Io ricordo che già quando era uscita volevo prenderci delle opzioni contro perché sapevo che sarebbe andata male Questa è arrivata a un massimo di 93 dollari a luglio e poi è iniziata una lunga discesa Adesso è a 12 dollari, 12-13 dollari ed è proprio di qualche giorno fa Passo a scrivere Nicola CEO Sales Shares Dove il chairman e founder di Nicola ha venduto 3.5 milioni di stocks a 13 dollari Ovviamente lui continua a vendere stocks e azioni e questo farà scendere notevolmente sempre di più il prezzo E la povera gente che l'ha comprata qua, spinti dal boom, dall'entusiasmo Che l'hanno comprata a 93 dollari, quasi 100 dollari Adesso vale più o meno 10 dollari Molta gente ci ha perso E probabilmente ci perderà ancora, a volte le azioni poi arrivano a valere davvero pochi centesimi Questa è la prima di cui vi volevo parlare Occhio a investire in Nicola, occhio davvero Perché il CEO continua a vendere stocks Ah, è una cosa che vi volevo dire C'è un campanello d'allarme Il campanello d'allarme qual è? Io mi ricordo che quando Nicola si quotò in borsa fece una merger Una merger è un'operazione dove un'azienda non quotata Fa una fusione con un'azienda quotata E questo le permette, poi cambiando il nome, di essere quotata Saltando tutta una serie di paletti, di investigazioni, di cose, di procedure Che verificano la stabilità e l'affidabilità di quell'azienda Io mi ricordo che Nicola infatti fece una merger E quello era il primo campanello d'allarme che già mi fece diffidare dall'investire in Nicola Purtroppo molta gente magari non sapendo queste cose E magari non sapendo cos'è una merger Ha detto, vabbè sì, ha fatto una merger, si è quotata Farai camion elettrici Top è il futuro, ci hanno investito 93 dollari Poi hanno venduto Sicuramente chi aveva più azioni, i maggiori azionisti hanno venduto Questa è la prima, quindi occhio all'emerger Seconda è questa stock Si chiama GSX Takedu È un'azienda cinese Che fa praticamente istruzione online E devo essere sincero, io avevo questa stock Ma l'ho venduta in tempo Io l'ho venduta tipo qua, mi sembra a 90, 100 L'avevo presa tipo qua, più o meno Io l'ho presa qua e l'ho venduta qua Poi questa è arrivata a una punta di 147 dollari E poi è iniziata la lunga discesa Che adesso l'ha portata a 28 dollari Purtroppo la gente che l'ha comprata a 147 Magari spinti dall'entusiasmo Spinti dalla massa Che compra, compra, compra Non so se questa stock tornerà mai a 147 Dubito, dubito fortemente Niente, queste sono due aziende Due stock che sono andate davvero male Forse andranno ancora peggio nel futuro Forse arriveranno a valere magari pochi centesimi State sempre attenti quando vedete che c'è una stock Che sale davvero tanto Perché poi lì c'è chi anche spinge molto le bolle E poi vendono in massa Ed ecco qua Niente, per oggi è tutto ragazzi Ci vediamo al prossimo video Ciao 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 Grazie a tutti.